Si è riunita in Regione Liguria su convocazione dell'assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti la cabina di regia sulle aree di crisi complesse del Savonese e Val Bormida a cui hanno partecipato i rappresentanti dei comuni, provincia di Savona, autorità di sistema portuale, associazioni datoriali e sindacati. È stato fatto il check sull'avanzamento del progetto, ha spiegato l'assessore Benveduti e abbiamo annunciato la domanda di proroga inoltrata al mese dei termini del bando dal 17 settembre al 1 ottobre andando incontro a una precisa richiesta delle associazioni di categoria e delle parti sociali tenendo conto del fatto che agosto è un mese pressoché inutilizzabile dalle imprese. Durante l'incontro è stato illustrato il bando da 3 milioni di euro per i fondi PORFES 2014-2020 a sostegno alle infrastrutture di ricerca nell'area di crisi complessa Savonese che aprirà dall'11 al 31 ottobre. Inoltre sono state spiegate le strategie delineate durante gli stati generali dell'occupazione che riguardano l'integrazione di percorsi formativi e politiche attive del lavoro con particolare attenzione alle aree di crisi del Savonese.